Ben trovati in una nuova puntata dei Sotterranei, oggi ospiti di Galatina 2000 c'è Paolo Paticchio, tu sei il curatore e l'ideatore di un libro freschissimo che è uscito da poco, che si chiama Post, mi dici il sottotitolo che io ovviamente non ricordo? Sì, abbiamo utilizzato un sottotitolo piuttosto lungo perché Post è il titolo, corto eccetera, invece il sottotitolo ha 13 storie dopo l'89 che non sapevano di diventare mito. Allora, volevo farti questa domanda perché proprio mi è venuta, quando ho pensato a queste interviste immediatamente, io non ci siamo conosciuti prima, ho letto che hai 27 anni, che dal 2007 fai parte del Consiglio Comunale, sei anche assessore alla cultura, all'ambiente, sei giovanissimo e evidentemente fai politica, visto la disaffezione che c'è ultimamente dei giovani verso la politica, forse legittimata, forse motivata, ma non parliamo di questo. Ecco, volevo chiederti questo, se ti chiedessi così, se ti chiedessi di scrivere una storia sulla politica che potrebbe entrare in questo libro, ecco, una storia di un politico, di un'avventura politica, di qualcosa, che cosa mi diresti, visto che tu fai politica? Ma intanto ti direi una di quelle storie che in questo libro c'è, che per me è molto importante ed è l'unica storia politica che abbiamo inserito nel libro, ed è quella di una persona che probabilmente si conosce pochissimo, che è Alexander Dubcek. È una di quelle storie che è passata purtroppo non per come dovrebbe alla storia di questo continente. Dubcek era un operaio metalmeccanico che a un certo punto decide di entrare nel Partito Comunista cecoslovacco e decide di voler provare a fare l'avventura di diventare lui il segretario del Partito Comunista cecoslovacco. Si scontra con il candidato ufficiale stalinista, ovviamente la faccio molto breve, gli storici non me ne vorranno, e decide di farlo però con un portato diverso. Mette insieme una rete di intellettuali, di pensatori, di artisti e inizia a montare quella che diventerà la primavera di Praga, l'idea di dimostrare che poteva esserci una cosiddetta terza via, l'idea di dimostrare che ci poteva essere un volto umano del socialismo, l'idea che in quel mondo diviso a blocchi si poteva immaginare un'altra possibilità di sviluppo. Vince contro il candidato staliniano quel congresso, una storia eccezionale, e inizia a fare tutta una serie di iniziative, di provvedimenti assolutamente innovatori. Quel momento Briezhnev decide che quella storia deve finire, non è più possibile, e fa l'atto fortissimo di mandare i carri armati a Praga. E blocca in questa maniera questo meraviglioso momento. Lui dapprima viene sbattuto a fare l'ambasciatore altrove, poi torna a fare l'operaio metalmeccanico. Questa è una storia di un altro mondo, ma in realtà l'avvenimento importante e forte è che è caduto quel muro di Berlino, divisa la cecoslovacchia in Repubblica Ceca e Slovacchia, Dubček diventerà il primo presidente della Camera della Repubblica Ceca. E quindi la dimostrazione in un modo o nell'altro che anche nei momenti più difficili, anche quando le tue idee si scontrano con dei carri armati, anche quando pensi che non ce la stai facendo più, la possibilità a un certo punto, se la tua idea è buona, se la tua idea è forte, se con la tua idea tu fai una comunità, costruisci, alla fine la storia deve renderti merito e ce la puoi fare. Che cosa, come mai avete deciso di chiamarlo post, che cos'è secondo te e per te la post generazione, visto che ormai post si usa molto, credo che sia il nuovo termine di questa generazione, insomma, spiegaci. Insomma, l'idea di chiamarlo post era un po' così, perché noi siamo una generazione che molto spesso viene definita post perché veniamo teoricamente dopo tutte le cose importanti, no? Sembra che noi veniamo, cioè è successo già tutto il meglio che doveva succedere, noi adesso dobbiamo accontentarci di quello che c'è. Potremmo essere una buona sintesi, o no? Esatto, ma infatti poi il tentativo è anche quello, no? Post perché quella nostra è una generazione che utilizza i post anche per comunicare, anche per informarsi. Generazione post perché vuole diventare una provocazione, perché c'è sempre un qualcosa che viene dopo, e quindi non significa nulla dire che esiste un qualcosa che è post, ma perché vogliamo provare anche attraverso il contributo di questa pubblicazione a fare in modo che questa generazione si guardi intorno e capisca che non è vero che viene dopo le cose migliori, ma in realtà ce n'è tanto di buono e attraverso questa pubblicazione iniziare a pensare già a chi verrà dopo il post, dopo di noi, e lì vogliamo creare il cortocircuito, perché se c'è una questione aperta in questo paese è che un patto generazione a un certo punto si è rotto. I genitori, i padri non hanno più pensato veramente al destino dei figli, ma hanno pensato ad ottimizzare l'esistente. E noi invece vogliamo tornare a collegare questi fili, smetterla con questo cortocircuito, umilmente mettendo sul piatto della discussione anche questa pubblicazione e questo percorso social. Gli autori sono tutti, ho letto che sono tutti salentini, tutti poi li si hanno origine, comunque anche se probabilmente lavorano forse fuori. Ci puoi insomma accennare, sono amici, com'è nata l'idea di coinvolgerli? Ma intanto l'idea nasceva da questo, perché già il fatto di avere 13 autori diversi è un portato generazionale, è la dimostrazione che c'è un pezzo di generazione che lavora sul noi e non è assolutamente scontato in questo momento storico. L'altra grande motivazione era dimostrare che non sono vere quelle classiche etichette che vengono messe su questa generazione, la scelta dei 13 autori è la dimostrazione che esistono 13 soggetti che sono rappresentanti di un fermento che esiste sul territorio pugliese e anche altrove ma venendo dalla Puglia. A partire da questo mi sono divertito a trovare queste 13 persone che sono persone che in un modo o nell'altro, perché quando uno inizia ad attivarsi naturalmente vede che c'è un fermento, esiste una rete di persone che fa, che non riesce a venire fuori per come dovrebbe ma esiste e allora l'idea era proviamo a tenerle insieme, ognuna nel proprio settore di intervento, nel proprio settore di lavoro, di interesse e in questa maniera, a partire da loro, in questa visione un po' collegiale, proviamo a mettere su questa pubblicazione. Mi viene così immediatamente, scusami, le storie hanno tutti, sono tutte importanti, hanno tutti una grandissima importanza, però così mi viene, se ci puoi un attimino ricordare Michele Frascaro perché ecco, penso che sia importante ricordarlo e anche qui ricordato. Certo, noi nella scelta delle storie abbiamo voluto mantenere uno sguardo che è tipico della nostra generazione, uno sguardo sul mondo, perché ci sono storie che vengono da altri continenti, storie europee, storie italiane e anche una storia locale. Per di più ci sono anche storie non fisiche, non so come, ci sono gli hacker, che è una roba che è virtuale, c'è Banksy, esatto, di Matteo Serra, c'è Banksy che è questo writer che nessuno conosce, quindi anche delle non persone quasi. In questa scelta abbiamo voluto inserire una storia anche locale, come vi dicevo, che è quella di Michele Frascaro, ma per una grande motivazione che vogliamo ribadire sempre con forza. Non scegliamo Michele perché è stato un compagno di viaggio per molti di noi, altrimenti non avrebbe senso inserirle in un'operazione come questa. Abbiamo scelto di inserire Michele perché è la faccia importante, può essere un punto di riferimento generazionale per chi vuole provare a fare del giornalismo e del giornalismo fatto per bene. Michele faceva parte di questo gruppo di ragazzi che a un certo punto voleva provare a fare informazione, però voleva uscire fuori dai canali tradizionali dell'informazione e quindi con questo gruppo di ragazzi mette su una pubblicazione, una rivista che si chiamava L'Impaziente e fa dei lavori di inchiesta che sono diventati delle pietre miliari di questo territorio e che sono state fondamentali, penso al lavoro fatto su Regina Pacis, penso al lavoro fatto con gli operai della Delchi, Filanto, insomma la dimostrazione che si può fare del giornalismo in questo territorio e non solo, ormai sembra che il giornalismo sia una di quelle cose che si fa fatica a fare è che lo si può fare con la schiena dritta, lo si può fare nell'interesse delle persone e lo si può fare anche non necessariamente nei canali ingessati. Una delle soddisfazioni più belle è stato un tweet che c'è stato qualche giorno fa da parte di una ragazza che dopo essere stata la presentazione del libro, dopo aver preso il libro, dopo aver letto la storia di Michele Frascaro ha scritto io da grande voglio fare la giornalista, stavo perdendo la speranza nel farlo tramite la storia di Michele sostanzialmente mi sono ricaricate le pile e questa è l'operazione che vogliamo fare. Quindi post sta a significare in qualche modo anche l'idea, cioè il messaggio è quello di avere fiducia forse in quello che è stato, in quello che abbiamo avuto, in quello che forse sarà, qual è il messaggio? Se pensi a questo libro come lo riassumeresti? Per me questo libro è un tentativo di ritrovare, spolverare un pezzo di orgoglio generazionale, questo è quello che voglio fare, vogliamo provare a dare uno scatto di reni perché abbiamo un mondo molto complesso, ci sono una serie di crisi contemporanee devastanti, non possiamo cadere nel tranello di pensare che davvero siamo frutto del nulla in questo momento, non è vero, ce n'è tanto e c'è tanto di buono, noi da lì dobbiamo, c'è assolutamente questo rischio e tra l'altro... Quindi quasi un'esigenza questo libro forse? Assolutamente, un'esigenza per noi perché è un'esigenza, siamo convinti che attraverso il conoscersi e raccontarsi poi si va avanti, ed è un'esigenza anche perché poi proprio da una scuola di Galatina, nella premessa la racconto questa cosa, ci fu una volta un incontro su giovani e politica ed è stato uno dei motivi per i quali poi è nata la scintilla di questa pubblicazione, a un certo punto una ragazza prende la parola e dice che i ragazzi oggi non fanno politica perché sono rassegnati e che una ragazza di 15 anni possa utilizzare quel vocabolo è un problema grosso, un problema sociale di questo paese e allora questo orgoglio generazionale serve a quello, a cancellare alcune parole perché non servono, non possono fare parte di quel vocabolario e vedi noi ogni capitolo l'abbiamo aperto con un sottotitolo di una strofa musicale, di canzoni che sono state fatte dopo l'89, anche questa, che noi siamo un po' divertiti. Ecco, la prima citazione che è quella che ho voluto mettere io nella premessa è la citazione di una canzone di Caparezza che diceva «Tieniti la terra, uomo, io voglio la luna». Questa generazione ha smesso a un certo punto di poter anche sognare di prendersi quella luna, non è giusto. Ok, io penso che sia sufficiente tutto quello che ci hai detto, insomma io lo andrò a leggere velocemente e a comprarlo. Complimenti per quello che hai fatto perché è bello che anche qui nel Salento si facciano queste cose perché sono piena di vita e si sente pulsare questo libro, quindi io ti ringrazio per la disponibilità e per averci insomma permesso di leggere queste storie che altrimenti non avremmo avuto modo di leggere. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. 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 Grazie.